Come si tratta di un'associazione per la grande Napoli? Come si tratta di un'associazione per la grande Napoli? Le nostre carceri, in particolar modo il carcere di Poggio Reale. Usciranno successivamente altre copie, quindi c'è un'apertura, un dialogo con l'associazione Liberi di Volare per continuare anche ad informare soprattutto sia i cittadini, sia le parrocchie, sia i detenuti all'interno delle carceri che c'è questo giornale che fa libera informazione sui diritti negati dei carcerati.